Giovedì 18 aprile alle ore 11 e 30 presso la sede del Museo Vivo del Mare di Pioppi a Pollica verrà inaugurato il Marine Tartal Center, centro dedicato alle tartarughe marine. Realizzato con i fondi del progetto europeo Tartalife sarà gestito da Lega Ambiente con la collaborazione scientifica della stazione zoologica Anton Dorn di Napoli. Il centro sarà dotato di personale qualificato quali veterinari e biologi marini e lavorerà in rete con i pescatori per il recupero delle tartarughe che ogni anno vengono accidentalmente catturate durante le attività di pesca. Alla inaugurazione parteciperanno Valerio Calabrese, direttore del Museo Vivo del Mare, Stefano Pisani, sindaco di Pollica, Tommaso Pellegrino e Gregorio Romano, rispettivamente presidente e direttore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo Didiano Ialburni, Antonio Briscione, Presidente del Parco Regionale Riserva Foci Sile Tanagro, Sandra Okscheid, coordinatore della stazione zoologica Anton Dorn, Raffaele Esposito, Presidente regionale FIBA Campania, Vittorio Rambaldo, pescatore Michele Bonomo della Segreteria di Lega Ambiente Campania e Antonio Nicoletti, responsabile delle aree protette di Lega Ambiente. Il Marine Tartal Center rappresenta il coronamento dell'impegno portato avanti sino ad oggi dal Museo e da Lega Ambiente per la salvaguardia delle tartarughe marine, ma soprattutto un punto di partenza per una sfida ancora più operativa ed efficace per proteggere la biodiversità del nostro mare.